L'uomo d'acciaio che dopo una nottata fra cene almeno tre e piscina alle sette del mattino hanno chiesto le lasagne. Russell, tra poco ti aspetta una ricchissima cena siciliana. Qual è il tuo cibo italiano preferito? Oh, pfff, è una grande lista, è una molto, molto grande lista. Sì, credo che non la cibo non inizia e finisce con l'italiano? Cioè, cosa dobbiamo avere questa mattina? Ho solo un po' di prosciutto, ho solo un po' di arancia, un po' di cose semplice, ma tutto, all'interno. Beh, per esempio Bobby De Niro adora la mozzarella. Absolutely, but that's what I'm saying, the list is like...